Almeno 85 persone sono morte per sbaglio in seguito a un attacco dell'esercito con un drone che ha colpito un raduno religioso nello stato di Kaduna, nel nord-ovest della Nigeria. Almeno altre 66 persone sono rimaste ferite. Il raid sarebbe dovuto essere una missione di routine contro alcuni terroristi. Martedì il presidente ha ordinato un'indagine sull'ultimo di una serie di errori nelle zone di conflitto della Nigeria. Dal 2017 più di 400 civili sono morti nel corso di quelli che dovevano essere attacchi mirati a gruppi terroristici.